Sono Agnese Marcus, sono la responsabile del settore educazione ambientale e valutazione ambientale strategica dell'assessorato della difesa dell'ambiente. Ci occupiamo di coordinare i centri di educazione ambientale della rete Enfeas della Regione Sardegna, nell'ambito del quale abbiamo nel 2023 pubblicato un bando per la valorizzazione e la cura dei beni comuni, quindi per finanziare dei progetti a cui potevano partecipare i centri di educazione ambientale, quindi gli enti titolari di un centro di educazione ambientale, l'intenzione era di finanziare dei progetti che proponessero delle metodologie partecipative per sensibilizzare la cittadinanza verso la valorizzazione e la cura dei beni comuni attraverso le metodologie di partecipazione, individuando come beni comuni dei luoghi simbolo per la cittadinanza, altresì interessati da fenomeni di degrado. Sono state messe a disposizione per l'annualità 2023 inizialmente 1.300.000 euro, che hanno consentito di finanziare 33 progetti, successivamente a fine 2023 con la legge di assestamento del bilancio sono state reperite ulteriori risorse pari a circa 340.000 euro, questo ci ha permesso di completare lo scorrimento della gradatoria, quindi tutti i progetti che sono stati valutati come idoni sono stati finanziati. In particolare oggi è stato presentato il progetto proposto dall'ente Parco Molentargius, BIPAC, che riguarda un progetto di valorizzazione della Piana di Zarenas e che è il risultato tra i migliori in quanto ha raggiunto la quarta posizione in gradatoria.